Emozionato ieri, no? Sì, molto. Ma aspetta, ma sto passo indietro rispetto agli uomini. No. Ha dimostrato che non sta dietro agli uomini. Beh, direi di no. Direi di no, decisamente no. No, dai per favore. Però lei ha dovuto rinunciare alla conduzione, giusto? Lascio stare, per favore. Grazie, è un collega. Ciao.